Procede la macchina elettorale in vista delle amministrative del 15 e 16 maggio. Per quanto riguarda le provinciali, entro sabato prossimo, 30 aprile, deve essere affisso nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici a cura del sindaco il manifesto con i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere provinciale con i relativi contrassegni e il numero, secondo l'ordine, che è risultato dal conteggio compiuto dall'ufficio elettorale centrale. Allo stesso modo, per elezioni comunali, deve essere affisso nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici a cura del sindaco il manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i contrassegni e i numeri d'ordine secondo il risultato dal sorteggio effettuato dalla commissione elettorale circondariale. Sempre sabato 30 scade il termine per le variazioni da portare alle liste elettorali per la morte degli elettori. Sabato 30, il sindaco e il commissario devono notificare l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutando l'attività elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica della nomina i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale grave impedimento al sindaco e al commissario, i quali provvederanno a sostituire le persone impedite. Grazie. Grazie.